E' il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ad incassare i maggiori consensi e a risultare il primo nella graduatoria riservata ai primi cittadini italiani nella classifica del sondaggio annuale commissionato da Il Sole 24 Ore all'istituto IPR Marketing. De Magistris rispetto alle elezioni dello scorso anno ha guadagnato un ulteriore 5%, attestandosi in vetta alla graduatoria con un 70% dei consensi. All'esploade il sindaco del capoluogo regionale risponde il primo cittadino di Salerno Vincenzo De Luca che si conferma al terzo posto nella graduatoria in compagnia dell'amico veronese Flavio Tosi e al sindaco di Bari Michele Emiliano. 65% dei consensi per Vincenzo De Luca la cui figura si consolida alla luce soprattutto delle grandi innovazioni e trasformazioni della città di Salerno. Nella speciale graduatoria riservata ai presidenti delle province cresce il consenso per Edmondo Cirielli che rispetto allo scorso anno guadagna ben 6 posizioni nel sondaggio effettuato dall'istituto IPR Marketing. Cirielli dalla 29esima posizione passa alla 23esima raggiungendo una percentuale del 59%, una crescita costante registrata dal 2009 quando il massimo esponente politico di Palazzo Sant'Agostino era al 39esimo posto della graduatoria.